Sabato prossimo, il 2 settembre, si aspetta nel cuore di Cittadella una vera invasione di sport, divertimento, musica e inclusione con crossabili show freestyle motocross per il sociale e il vulcanico Mattia Cattapan. Ci sarà un motogiro, ci sarà musica live, avremo l'eccellenza dei food track con mangiare e bere, avremo piloti internazionali che faranno freestyle motocross, avremo una mostra a mercato con più di 30 aziende che verranno a esporre. Prevediamo veramente un afflusso di gente importante ma soprattutto l'obiettivo è fare sorridere, regalare una giornata di spensieratezza a tanti ragazzi con disabilità, ne prevediamo circa 300. Noi abbiamo coinvolto le cooperative di Belluno, Vicenza, Venezia, Padova, Treviso, l'obiettivo è proprio quello là di far diventare sempre più grande crossabili, la grande famiglia di crossabili, coinvolgere sempre più persone. Il nostro obiettivo è veramente, per me, io sono disabile, ho avuto un incendio di moto in gara ma il mondo dell'isabilità è un mondo meraviglioso dove non interessa chi sei, quanti soldi hai o cosa fai nella vita ma solo le emozioni al tempo che passi assieme. E per me è una missione di vita, regalare speranza, sorrisi e tanto divertimento a questi ragazzi. Si inizia alle 15 con la parata attorno alle mure e poi in piazza Piero Bon via il rombo dei motori e alle acrobazie. Una giornata che è un obiettivo importante, che è quella poi di raccogliere qualcosa per destinarlo a questi ragazzi, per fargli vivere dei momenti, dei giorni particolari che magari non potrebbero vivere assieme con i propri amici e compagni. Quindi il Comune di Cittadela non può far altro che appoggiare iniziative di questo tipo. Sarà una giornata inclusiva in tutti i sensi dove tutti potranno vivere delle emozioni e le emozioni saranno veramente tante. Grazie!